Ciao ragazzi, sono benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi, reaction di Juve Samp Dallo Stadium, ormai sono più qua che a casa mia Andiamo dentro all'Areal Stadium, però prima mi raccomando Lasciate un like, iscrivete al canale se ancora non avete fatto E niente, andiamo dentro e vediamo se riusciamo a fare tre punti oggi Questa partita che, come ha detto Allegri, potrebbe trarre di inganno Attenzione Ragazzuoli, facciamo il nostro regresso all'Areal Stadium Oggi con la cochina, con la coca Teniamo un po' più sodio, no? Sì, ragazzi, è stato un po' più sodio Ragazzi, è entrata l'Areal Stadium, riscaldiamoci bene Siamo da tre punti, al di là ci sono quello che poi succederà Magari con penalizzazione o altro E voglio sempre vincere, voglio sempre vedere dai tuve questi colori All'Areal Stadium, numero 3 Numero 6, Da Silva Numero 9, Dujan Numero 17, Filip Gosti Numero 19, Leonardo Marucci Numero 20, Fabio Miletti Numero 25, Adrienne Diario Numero 44, Nicolo Maggiore Numero 45, Enzo Marucci Vediamo Adisposizione Anche in me, la marona scelta 23, 5, 9, 10 Aria, numero 19, 5, 10 Viva la fine, forza! L'Uwe! Ragazzi, è iniziata la partita, vediamo. Dai, 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 dai! Vai tu! Vai Philippe! Grazie, era bella, bravi, c'era bella, era bella, era bella. Oh, non ci credo, Gabbiodini! Mamma mia, da sola, anche la porta l'ha sbagliata, non c'era neanche per il gioco. Questa, però non c'era neanche per il gioco, ragazzi, meno male. La pennella, va. L'Arabio, Bremer! Il duro, il duro brasiliano, altro gol, altro gol di Bremer. Grandi gol. Altro assist di costi. Altro assist di costi. Bremer! 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 Dai, Bremer! Bell'è il cornato! Ormai è un cornato a scontri. Vai Philippe, vai Philippe! Mettila bene dentro! Oh! Tutti ci fanno come i retti, va bene, va bene. E' l'Arabio per il costi, ci vai il treno! Mettila dentro tu, so che magari si sblocchi. Una volta che c'era Vau, il c'è il costi spalla di merda. Ora, premer! Tira! 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 Sohai! La limite dell'area, la passi corta, ma io non so. Spiraglio, perché la limite dell'area, la passi, la passiamo. Com'è? Guardate il gol, guardate il gol. Gol, gol zero. Vai, vai, vai. Bellissimo. La lua, allora. La lua è però. La lua è! 1,2,2,2,2,2,2,0. Sì! Radio! Vabbè, 2,0. 2,0. Radio! La lua è in grossa. La segnalità del numero 25. Radiette! Radio! Dario! 2 gol, 2 gol di testa, si crossa. Bellissimo il cross anche in questa occasione. Chi ha messo il cross mi retta. Mi retta dalla destra, bello. Grande il cross. Con il cross siamo pericolosi, l'abbiamo visto. Sia oggi che anche in altre occasioni contro il Toro. Quindi c'è bisogno di cross, bello. Bene così, gol zero. In 26 minuti già finito il tiro. Occhio! No! E non siamo sempre. Incredibile, ho sempre un gol. Un gol semplice. Poi 2-3 rimpalli, tiro da cuore. Poi porca troia, gol da Ugello. Ugello. Sveglia! Non ci credo! 2-2. Ci posso credere un minuto dopo. Sorrido perché sennò ragazzi davvero tiro fuori tutto quello che c'è. Sveglia ragazzi, sveglia. Questo perché non ci siamo con la testa, perché stacchiamo. Perché crediamo di essere superiori, non siamo concentrati, non c'è spirito di sacrificio. quando succedono queste cose qui, ragazzi, è così. Poi in altri momenti, per fortuna la voglia c'è. Però spesso e volentieri, ragazzi, flec-out stacchiamo. Per l'alanzo, lo riassegnato il numero 7, Chiuri Cicci. Contro a piede, così loro fenomeni, nessuno lo marcha in aria. Ragazzi, finisce primo tempo, 2-2 fischi perché, abitivamente, ragazzi, qua la testa non c'è. Grazie. Dai ragazzi, iniziamo il secondo tempo, vediamo cosa vogliamo fare, va. Vediamo. Un po di voglia! Chiudi! Chiudi! Vai, qui c'è! Chiudi! 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 E' un grande gol, però vediamo se non c'è qualcosa, perché tanto qualcosa deve andare a spigare la vostra attenzione. E' un po' di foglia, basta questa, basta questa. Non c'è un po' di farlo come ha fatto la Bia adesso. Questo è davvero un pizzico, un pelo di voglia in più. Juve, 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 Juve. Dai, quattro piedi, dai, quattro uccello. In mezzo, in mezzo, oh, me l'ha speso, e' il cuore, e' il cuore, e' il cuore. Ha speso, metta la vita, ce l'hai scopo? E' un'altra qua, che era da un'altra parte. No, no, Rauch no, no, Juve no. Guarda chi gliel'ha data, guarda chi gliel'ha data, gliel'ha data. Dani l'ha andato a prendere il pallone e l'ha data a Juve. Juve, 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 ti prego, io mi fido di te, però. Juve, mi fido di te, spero che eventualmente potrebbe servirti per sbloccarti, perché si vede che sei un po' fallato. Io credo in te, credo in te, per risolvere le tue potenzialità, devi sbloccarti, devi fiscare un po' mentalmente, non lo so, non so cosa c'è, però spero che questo rigore possa andare. Innanzitutto sia realizzato, poi magari sbloccarmi, dai. Oh, no, oh, no, niente, che gesto basta con l'ansia, si è fatto pure, oh, sono quasi cagaciotto, si è fatto pure, oh, oh. Vi dico solo che ho paura, vi dico solo che ho paura. Vi lo dico, ho paura, spero che ho paura. Piero! Falou, Falou! Dai! Dai, vediamo, dai, vediamo. Ragazzi non va, ragazzi non va. Ragazzi non va. Mi dispiace ma loro chiro, ragazzi, non dispiace il casino. Non mi dispiace perché si fa. si vede che ci sta anche male dai Kosti ci mettila bene chi c'è? lo potevano segnare tutti ha segnato su l'è ma bravo ragazzi non deve segnare bravo c'è assurdo non deve segnare ha segnato su l'è contento per su l'è però che scheglia bravo ho parato il mondo ha segnato il numero 30 Patias Sule Patias Sule Patias Sule bravo 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 mamma mia ragazzi che sudanda che partita spesa contro un avversario ragazzi di livello basso 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 con tutto rispetto treva tanto ma livello basso 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 mi è più dispensabile ma proprio mi è dispensabile cioè la vittoria era l'unimo sindacale contro quest'avversario in casa va bene lo sento per la vittoria è solo una partita alla fine è spuntata quindi ci sta ci sta anche dicendo quanto giochiamo adesso ormai ragazzi stiamo a giovedì in giovedì in giovedì d'America mi pare che ci faccia vogliamo stagli e ragazzi ci sta anche un po' un calo però ragazzi ci sta anche una squadra che non ci ha mai se vuole detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima attenzione perché c'è una sorpresa una sorpresa ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima e ci vediamo alla prossima e ci vediamo alla prossima e ci vediamo all'altro e ci vediamo adesso di pensare alle Europa League perché quella partita era lo stato ci vediamo al suo contenuto dalla Germania ciao ragazzi ciao